L'appello finale di Chiara Appendino, un minuto e trenta agli elettori. Non credo che in un minuto e mezzo che un appello potrò ovviamente cambiare le sorti di queste elezioni, ma voglio comunque rivolgermi a tutti i torinesi. Io sono una donna lavoratrice, sono una madre, ho 32 anni. Ho un'esperienza di 5 anni di Consiglio Comunale all'opposizione, dove ho fatto opposizione dura, dove credevo che fosse giusto ovviamente contrapporsi a delle scelte che ritenevo sbagliate e sono stata costruttiva dove ritenevo che fosse giusto. Vi chiedo di giudicarmi per quello che sono. Abbiamo costruito un programma, ho costruito un programma insieme a tante persone, 400 persone che hanno lavorato con me da settembre fino ad oggi, in continuità con il lavoro fatto in questi 5 anni. Un programma concreto, con tante idee e tanti progetti. Quindi io vi chiedo di giudicarmi per le mie idee e per i miei progetti. Ho fatto una scelta innovativa, rivoluzionaria e anche coraggiosa. Ho scelto delle persone, la mia giunta, la mia squadra, in base alle competenze e alla capacità. Ho scelto le persone aprendo al merito, perché questa città ha bisogno di essere aperta al merito. Bene, giudicatemi per la mia squadra. Le persone, la persona, io, candidato sindaco, la squadra, il programma. Io chiedo ai torinesi di giudicare questi tre elementi e andare a votare in modo consapevole, quindi esercitando un diritto di voto che è importantissimo. Io credo che questa città sia un bivio, credo che questa città abbia bisogno di cambiamento, abbia bisogno di una nuova forza propulsiva e io credo che noi, con le nostre idee, la nostra squadra, rappresentiamo quella forza.